Ciao a tutti, la settimana passata non sono andata in onda perché avevo l'anniversario del matrimonio, 40 anni, 40 anni, non avevo tutti gli anni, una volta, e allora mi sono dato la pasta gioia, ho girato il mondo, sono in sud a via San Sisto, ho fatto via le Roma, ho parcheggiato davanti alla cassa rurale, attraverso i giardini e sono a bevere un spritz dal mio amico Perozocca in piazza. Allora, la settimana questa, ma più che altra, la settimana prossima, dovrebbe avere l'invasione dei tedeschi, bonsai, arco, il bike festival e tutto. Allora, quei che non sono i buoni loro, dei ciappani, con i carri armati durante la guerra, semboni noi, dei ciappani, con i rampichini e la pisa al taglio, che avrei in pieno così. Perché dico questo? Perché ne approfitto di parlare anche di una delle robettine che vengono fuori questa settimana qua, è l'articolo sul giornale che ha fatto il mio amico Marco Benedetti. Ecco, Marco Benedetti l'ha detto che lui l'ha fatto e ha reso conto dai tre anni o quattro, giustamente non mi ricordo, di presidenza dell'ingarda, l'ingarda, salve tutti quanti, l'azienda di promozione turistica di tutta la nostra zona. Allora, il Marco, il Marco Nostram, l'ha detto che lui l'ha stato massa bravo. Allora, mi sono restato un po' spiazza quando l'ha detto una roba del genere, a parte che l'ha detto Arco, quindi per forza deve essere bravo. Però, il maestro Fiorioli, quando ne va a scuola, mi diceva, boccia, chi si loda si sbroda, stai attenti a dirlo. Ora, lascia Marco che lo dica agli altri che ti si sta bravo, perché così forse l'è un po' meglio. Allora, il Marco, il Marco, l'ha detto che lui vuole essere ricandidato. Allora, io penso anche che, d'altronde, abbiamo sempre detto che per dargli una svolta, che vuole un diarco. Allora, insomma, vedete voi, insomma, se vuole riconfermarlo o meno. Certo, anche lui, cosa vuole pretendere? Cioè, non potete cavargli anche al sangue, no? 60-70 mila euro di indennità, so per lì, 680 mila euro di quel che è, come, ad esempio, i vitalisti della provincia. Insomma, cosa vuole che fai il deput? Il deput è anche una serenata sotto casa? E non è pure così, il Marco non è che poteva farlo. Un'altra notizia, l'altra notizia, della settimana passata, era questa qua, quella che ha fatto l'articolo il mio amico, il mio amico, il Gilberto Galvani, insieme all'Ivo Anas. No, lei ci lamentai perché gli attagliati via nella strada che portano posta dopo l'Argentina, no? Quando ti vai su, ti guardi sull'olivaia, no? Gli attagliati tutti gli olivi, gli attagliati, basta che guardi la foto, mi ho visto anche a me, ho detto, gli attagliati gli olivi talmente bassi, no? Che, a dire la verità, quando ho guardato la foto, dì, insomma, ti vedrai che il parone, il parone della zona, l'avrà deciso di avergliere un barretto, perché gli attagliati gli olivi talmente bassi che ti potevi fare dei tavolini da esterno del bar, dove ti potevi mettere che su il cappuccino e le brioche, no? Allora, l'amico, la zona la conosco ben, ma per sicurezza ho mandato la mia garanzia, ho mandato il Vinicio, il Vinicio è venuto di ritorno, mi ha detto, dico al Gilberto che staglia tranquillo, che problemi non ho ne ho, gli olivi, e stai, hai proprio, proprio, di volontà, perché il Piffer, che sarebbe il padrone di tutta l'area, no? L'ha vivendo anni e anni e anni in Toscana, no? E il vuole innestarli con delle piante, no? Il fa degli innesti con le piante di carobole, di datteri, di figli d'India, avogadro, papaya, insomma, la famiglia era posta degli esperti dalla Garfagnana, no? E gli ha sentenziato, proprio, meglio di quei su di San Michele, no? E che quell'area lì, no? Quell'area, tutta quell'area che è nella pozza sotto la frana del Baon, no? L'è proprio un'area adatta per le piante esotiche incalmate con gli olivi della pozza, non che è di bello. E il Vili della Cop, no? Che è quel pelà, la Zatacafora, le offerte dei supermercati, per i succhi di frutta, stessa roba, e l'ha fatta anche il Tamanini in farmacia, no? L'ha detto, chi adesso? Usiamo quell'oio che vai fuori da quella incalmadura lì per fare delle creme speciali per la pelle. Dopo parliamo anche con la Tiziana, la segretaria del PD, no? Quella del PD di Arco. E l'ha detto che le creme le va bene anche per quando fa le primarie per il suo partito. Allora le vai usate al posto della vaselina, così non è più imbroglia dure. Allora, in attesa della produzione di olio in calma prodotto sotto le crone del Baom, da Telegarda Trentino vi saluto, vado a aver scabito, fado buon weekend a tutti quanti, vi adervo a trovare il mio amico a Bologna e ne vedremo la settimana che vai quando sarei chi pieni dei todeschi. Arrivederci, auguri a tutti quanti. 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 Grazie a tutti.